Per non soi che se c'è un programma quali e ad esempio appoggiatone, nel livello di Napoli, l'apremota e l'apremota che può parere, per no, per non, ma non sia un programma per non poter fare per l'appropologia che s'occhia che la tè il livello di solito di riferimento. Non è anche quanto parlo, ma io l'oritero, le darl'acqua per creare il nostro amico, non è inissima Grazie per la visione!